Eccoci qui e benvenuti a una nuova lezione. Oggi vedremo come temperare il cioccolato. Facciamo il cioccolato così. Io vi consiglio di darci un doppio giro, cioè così, doppio. Perfetto. Così. Ok. Tirate su l'acetato con le dita. Puliamo il bordo così e lo mettiamo a fianco e lo giriamo intorno così senza burro, senza niente. Schiacciate e tirate su. Schiacciate e tirate su. Perfetti. Faccio rivederla più vicino. Puccio. Tolgo via retro. Schiaccio. Tiro su. Tiro indietro. Vedete? Gomitolo. Foglio per la sucker. Timbro di cioccolato. Anello e piumetta. Con queste piccole decorazioni puoi creare la tua pasticceria, versione molto molto carina, con un cioccolato temperato molto semplice. Quindi la lezione è terminata. Spero che questa lezione ti sia piaciuta e ci vediamo quindi alla prossima lezione. Ciao!